da tutti i riveriti come il baluardo della giustizia signor maestro la pipì come il baluardo della giustizia signor maestro posso fare la pipì? oh sì sì quante volte la fai ci sei stato adesso non diventiamo schiavi dei nostri impulsi è sempre quando c'è il dettaglio buongiorno maestra oh in piedi quando entra il segretario comunale capitano che bella sorpresa a quest'ora poi ma non sei molto allegro che è successo? sedetevi pure tu pure devo darvi brutte notizie il sindaco non è più sindaco è defunto e così fino alle elezioni governerò la barca per festeggiare il lutto la scuola fa due giorni di vacanza è morto il sindaco? viva il capitano! no no oggi parla piano non fare il pappagallo sai l'ho presa a Bari è vero Grazie.